Buon martedì 26 ottobre è un termine che è contemporaneamente aggettivo e sostantivo ed è evocativo all'appartenenza a una certa sacralità regale. Il termine è nobile. Lo utilizziamo quando intravediamo in una persona un atteggiamento, un comportamento, modo di esprimersi che evoca ricchezza, erudizione, eleganza, estetica e lo applichiamo anche a qualche gesto. Mi è capitato di ascoltare una trasmissione televisiva nella quale si metteva in evidenza come l'ex sindi dell'H di Roma, Virginia Raggi, alla sconfitta elettorale aveva espresso una rappresentazione di sé meritevole di ammirazione, cioè non ha inscenato delle rappresentazioni come siamo abituati a vedere nella politica. Si è sfilata con eleganza e Augias commentando, a un certo punto ho usato il termine nobile, poi ho tentennato, l'ha ritirato, sì, ecco, nobile ha detto forse un termine un po' esagerato. Ecco, volevo soffermarmi sulla esagerazione dell'applicabilità del termine nobile a ogni persona umana o semplicemente la necessità di cancellare dal nostro vocabolario repubblicano il termine nobile, che ancora indica un'appartenenza di sangue a un lignaggio regale, ci riporta inevitabilmente alle monarchie, cioè al potere assoluto di una singola persona che poi lo trasmette alle successive generazioni per lignaggio di sangue. Tutto questo lo trovo stridente con l'evoluzione culturale dell'umanità, che deve fare i conti tutti i giorni, con infinite tirannie, con infinite forme espressive di nascenti monarchie, che cercano di farsi incoronare dalle divinità contemporanee. Il sacro romano l'impero di Carlo Magno nasce attraverso l'incoronazione di Recarto da parte del Papa. E da lì si incomincia, si dispone una storia che continua a essere persistente nelle nostre culture che si finiscono progressiste e che cercano sostanzialmente una transizione delle rappresentazioni delle monarchie. Oggi l'espressione del re è praticamente presa in mano da una scienza regale nella quale gli esercenti la funzione scientifica si palesano come nobili, ma attenzione perché questo termine è ingannevole, è contraddittorio, perché ciò che evoca non è assimilabile nella antropologia di una nobiltà regale, di un potere assoluto, che vede l'umanità dall'alto verso il basso. E quindi dovremmo andare alla sostanza evocativa di questa parola. Dopo averne cambiato il significato, cancelliamone la presenza, così come abbiamo fatto con l'alcolismo. Però l'alcolista è stigmatizzante, è pregna di contraddizioni e di ipocrisie, è espressione di una scienza asservita agli interessi economici. Ieri sera nel club è sorta una brevissima considerazione relativa al fatto che bisogna distinguere il bere moderato da quello eccessivo, l'alcolista dal bevitore sociale. Poi mi è arrivato anche un messaggio, naturalmente, brutalmente, io ho detto che l'alcol fa male, punto e basta, non c'è altro da dire, non c'è altro da aggiungere. E poi mi è arrivato il giusto messaggio che mi metteva in evidenza come lo dice la scienza che l'alcol fa bene. Ecco, lo dice la scienza, quello che ci siamo abituati a sentire in questi due anni. La scienza va verificata relativamente a chi la paga, a chi sono i finanziatori. Lo scienziato non è un soggetto neutrale, dotato di strumenti di ricerca, di metodi, di luoghi fisici nei quali esercita le sue capacità intellettive, il laboratorio. L'ho ricordato in molte occasioni. Elena Cataneo nel suo libro immagina la scienza nel laboratorio quasi come uno strumento di guerra. È chiaro, per difendere l'umanità contro gli aggressori, scienza non è questo. E non è solo il laboratorio, il luogo principe della scienza. Non sono neanche i metodi. Questi sono strumenti, utili, a volte necessari, ma non fondamentali per definire che ciò che si sta facendo sia realmente scienza. Bisogna immediatamente chiedersi chi ha fornito questi strumenti, da dove derivano i soldi per mettere a disposizione questi strumenti. E allora la scienza è sicuramente una modalità esplorativa dell'esistenza. Ma non confondiamo gli strumenti e i risultati stessi ottenuti attraverso questi strumenti con la scienza, con l'affermazione, lo dice la scienza, perché dobbiamo cogliere anche chi sono i finanziatori. E posto che l'economia non è una scienza, è un esercizio della funzione umana intorno al denaro. Molti ambiti professionali non sono scienza. Anche questo è un punto molto importante da chiarire. La fisica deve essere definita a partire dall'oggetto del suo interesse, che è la physis, la natura. La natura terrestre, universale, cosmica. Dall'infinitesimale al macroscopico inesplorato. La chimica si rivolge ai microelementi, alle interconnessioni, alle reazioni, alle retroazioni, ma in sé. Questo è il contenuto, l'oggetto della scienza. La scienza, esattamente come la nobiltà, deve essere caratterizzata da una disposizione dell'animo, intrisa di umiltà, di consapevolezza di non sapere e di libertà dal condizionamento economico, dal senso di responsabilità e dalla dimensione etica, dal non assoggettamento, alle ragioni di una carriera costruita intorno alle ragioni della politica. Lo scienziato è umile e non incline a sottomettersi al diktat politico. Nobile è l'uomo che sa essere elegante, che riesce a vivere uno stile esistenziale improntato alla dignità. E questi elementi dobbiamo coglierli anche in coloro i quali non hanno avuto l'opportunità di studiare, ma si dispongono con umiltà di fronte al mistero della vita. Il club è una palestra, dove ogni membro è chiamato all'umiltà della scienza, a essere un ricercatore. Udoni diceva non si fanno ricerche sui club, ma ci devono essere ricerche dei club. Introdusse in maniera straordinariamente efficace il rapporto tra osservatore e osservato, tra soggetto e oggetto. Introdusse quell'elemento che la fisica moderna ha messo in evidenza, che quando noi osserviamo un oggetto, in realtà noi facciamo una elaborazione soggettiva di quell'oggetto, la realtà sì esiste, ma viene semplicemente interpretata. C'è un gareggiare in questi giorni sui numeri relative all'epidemia che possono o meno giustificare un'ulteriore dose di vaccino. Mentre non si sono ancora spente le polemiche intorno alla vaccinazione, si insiste sulla necessità di procedere oltre. generando a mio parere ulteriore confusione, perché implicitamente nella coscienza collettiva passa un messaggio che il vaccino somministrato è parzialmente inefficace. E per quale ragione una terza dose dovrebbe essere definitivamente efficace? Tutte domande che umilmente la scienza dovrebbe prendere in mano e non assecondarsi alle ragioni di media che hanno bisogno di messaggi chiari, semplici, lineari e sostanzialmente in gran parte falsi e contradditori. Ma la contraddizione che abbiamo conosciuto anche in epoca pre-vaccinale relativamente a questa epidemia che ha messo in crisi i sistemi sanitari anche in quel tempo, cosiddetti scienziati che erano in realtà semplicemente dei tecnici, capaci, ricchi di conoscenza, possessori di metodo, ma che hanno dimostrato di non essere degli scienziati ma essere semplicemente delle persone presupponenti che assecondavano il loro dire, a seconda delle circostanze. La scienza implica naturalmente anche contraddizione, conflitto tra gli scienziati, ma attenzione perché quando quel conflitto e quelle contraddizioni sortiscono strategie di carriera, allora quel conflitto è sterile, non serve a niente, crea solo confusione. Allora l'altro elemento che deve caratterizzare la scienza è l'umiltà e il rispetto dell'opinione altrui, cogliere una posizione avversa come una domanda da sviluppare, non come un contendente da combattere, da mettere alla gogna, utilizzando anche questi sistemi mediatici che in qualche modo sviliscono la scienza. Guardate che io non sto dicendo e non sto entrando nel merito sulla correttezza o meno di vaccinare la popolazione. Lo si faccia, ma con la dovuta umiltà, nella consapevolezza che abbiamo a che fare con un sistema sanitario fragilizzato, con una popolazione soprattutto nella parte ricca del mondo particolarmente fragilizzata per ragioni di natura meramente economica e che riflettono un modello di sviluppo insensato e folle che non vogliamo assolutamente emendare. Il consumismo è tornato alla grande, il traffico è aumentato per tante ragioni da esplorare anche queste, non ne conosciamo perfettamente le ragioni, in poco tempo naturalmente continueranno a crescere le polvere sottili che rendono ancora più fragili i nostri organismi. Ecco tutte queste sono domande da sviluppare, non possono essere tacitate dalla somministrazione di un vaccino o dalla fornitura di passaporti verdi attraverso tamponamenti. Non si gestiscono così le epidemie, si gestiscono anche con gli strumenti del tracciamento, delle misure precauzionali che oggi sono quanto mai necessarie, non abbandoniamole, le misure di protezione personale degli altri. Guardate le mascherine ci proteggono anche dall'inquinamento ma poi non limitiamoci a questo, usiamo la transizione della prudenza, della necessaria prudenza ponendo una domanda critica rispetto al modello di sviluppo, la necessaria ridistribuzione delle risorse. E allora per tornare all'inizio di questa riflessione e concludere questa mattina abbandoniamo il termine nobile, liberiamoci, affranchiamoci da qualsiasi prospettiva monarchica, diventiamo autenticamente repubblicani, cioè coloro i quali hanno rispetto della res pubblica, del bene comune, che umilmente si dispongono nei confronti dell'altro come persona intrisa di dignità, luogo del sacro e della trascendenza perché neppure la persona è il sacro, non sacralizziamo la persona, ma la persona è il tramite attraverso il quale noi giungiamo alla sacralità che c'è tra di noi, che è la vita stessa, che è la necessità di accogliere l'esistenza con atteggiamento umile. Il club è una comunità di persone che umilmente riconoscono l'appartenenza alla relazione, al sistema ecologico, che si affrancano da ogni forma di egocentrismo, da ogni tentativo subdolo o palese, di porre mano attraverso la manipolazione al corso della vita. Noi la vita dobbiamo semplicemente rispettarla, imparare a conoscerla, esplorarla nella sua costante evoluzione perché la conoscenza definitiva della vita non sarà mai possibile, perché nel momento in cui la conosciamo è già diventato altro e questo rapporto tra noi e ciò che noi osserviamo ci deve affrancare anche dal desiderio di rendere oggetti gli elementi della nostra sensazione. Pesso oggettiviamo le persone, dobbiamo invece rispettarle nella loro soggettività e coglierle nella loro radicale e irriducibile diversità. Ecco che allora il club è il luogo, principe, comunitario, relazionale, ma per testimoniare tutto questo bisogna porre mano a una riforma di se stessi e venire al club prima di tutto con i propri regami affettivi, non lasciarli fuori dalla porta, obbedendo sostanzialmente appunto a una modalità, un metodo scientifico, così tale viene definito, che cerca di porre rimedio alle sofferenze della singola persona intervenendo sulla singola persona e ignorando completamente l'intreccio relazionale nel quale quel sintomo ha preso forma in quella persona e la sua sofferenza è semplicemente un messaggio, un discorso aperto che ha la necessità semplicemente di essere ascoltato e anche coloro i quali si dispongono in modo professionale e scientifico di fronte al discorso dell'altro sofferente pongano mano soprattutto a se stessi con umiltà, perché nella loro percezione dovrebbero cogliere il senso stesso della vita che chiede di affrancarsi da ogni forma di pregiudizio per entrare in un percorso di autentica liberazione, ma questo concretamente può essere fatto se non trasformiamo il club in un gruppo, una sorta di laboratorio di riabilitazione, non ci limitiamo a un piagnucoloso automutuo aiuto, abbandoniamo la parola stessa aiuto, ma entriamo nel merito della vita comunitaria nella quale ciascuno trova possibilità di ascolto della sofferenza che esiste nei contesti nei quali essa viene generata, ma viene generata nei contesti, non rappresentiamo la sofferenza come un disfunzionamento della singola persona. Liberiamoci per favore dalle etichette artatamente diagnostiche, in realtà che cercano in tutti i modi di confinare, eludendo le variabili interferenti, confinare la sofferenza in una definizione che non comprende quasi nulla, spiega tutto ma non comprende nulla. Ecco tutti questi elementi, per tornare all'inizio della riflessione, ci liberino dalla necessità di evocare la nobiltà come luogo principe dell'eleganza, della virtù, della erudizione, della conoscenza. No, tutto questo sta nell'umiltà dell'essere umano aperto al processo coevolutivo e intriso di una disponibilità a una costante trasformazione, anche attraverso il riconoscere di non essere un granché, di essere semplicemente un soggetto fragile, destinato a un percorso limitato, nel tempo che ha un inizio e una fine e che contribuisce ogni giorno all'eternità della vita. Buona giornata a tutti.